sentite l'urro della gente, secondo me lei lo sta sentendo, sa di essere davanti continua a sciare con un'eleganza straordinaria, sta facendo una manche assolutamente controllata secondo me, la penultima porta ma lei lo sa ormai l'hanno stravisata, anche lì bisogna stare attenti vedrete che andrà a prendersi il suo anticipo, perfetta, niente da fare, non ce n'è per nessuno medaglia d'oro, Deborah Compagnoni, quinta medaglia d'oro pesante per lei, due le Olimpiadi buongiorno a tutti, sono Deborah Compagnoni e aderisco volentieri al progetto Restart Dolomiti dono volentieri la mia tuttina dei mondiali di Sestriere per aiutare i comuni del Bellunese colpiti dall'evento del 29 ottobre Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi all'asta del 26 gennaio